la migliore società della provincia di Milano che finirò ahahahah bastardo viva Ro via cazzo la metto su youtube questa così tutti vedranno che ci avete boicottato però boicottare che si abbiamo detto che ponevamo tutte le società così come anche dall'altra provincia di Monza poi chiamerei anche il rappresentante